già mo la pag di tik tok te l'ho linkata cosa viene linkato ice i mister di zona che cos'è così siete avete capito tutto dio cantante mom mister mi ammazzano sono un coglione che cazzo fa il portiere dai vai a scatare che il portiere non va bene che c'è il sladan ibraimovic che serghei cazzo fai dai santa c'è la ventana è venuto di sederti o serghei entra in campo dai cazzo stai muto 40 mila gradi adesso vado a farmi la doccia santa entra tu perché veramente mi avete rotto i coglioni tutti quanti frate ma è marrone sulle braccia e bianco sul viso ma che cosa cazzo è un cucciolone direttore cambio oh non me l'ha fatto un cazzo che mi ha fatto 8 cambi dai tu vieni di cine vedi dai dai portiere del cazzo esci che ne parliamo negli spogliatoi ma che è stupido il potere della vodka 3 milioni Ma che è? Parzi, Valcri, bentornati, Giorgia, grazie per il livello 1 Oh, mister, dammi un goccio, dammi un goccio Dai, 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 oh, forte l'imm... Ma no, ma non penso che comunque la vodka possa aiutarti nelle prestazioni Soprattutto durante una partita Cioè, non è così che funziona, ragazzi Sì, è rapido, dai, dammi te Dai, vai in mezzo, veloce, dai Al quadino di merda, mettila dentro Vai dentro, ubbrico di merda Carco Dio Che monstro Chi cazzo sono? Chi cazzo sono? Sono... Carco Dio Sai che l'ha fatto? Al quadino del cazzo Ma che cazzo sono? Ma questi pazzi scatenati Ma chi è che poi mi bocca due volte?